A Parigi le signore del gran mondo non si limitano più a cambiare pettinatura un paio di volte alla settimana, ora vogliono cambiare addirittura i capelli. Le parrucche sono l'ultimo grido della moda femminile, una moda molto comoda per la verità. Le donne infatti non saranno più costrette ad andare dal parrucchiere per la messa in piega o la permanente. Loro rimarranno in casa a fare la canasta e dal parrucchiere manderanno la parrucca. Tutto tempo risparmiato. Naturalmente ogni signora che si rispetti dovrà averne più di una, che diamine, non può mica farsi vedere sempre con la stessa parrucca o portare su una toilette nuova la parrucca dell'anno precedente. Per gli uomini le cose si complicano, nei loro madrigali non loderanno mai più i bei capelli della donna amata, per non rischiare una terribile scenata di gelosia quando i capelli non sono i suoi. Le modelle sembrano abbastanza soddisfatte, tanto che cercano addirittura di fare dei proseliti. Mica male, vero? Eh, giovanotto? Con i tempi che corrono!